Continuiamo con una domanda, sempre riguardo le notizie, è da parte di Gaetano, un fratello nuovo. Shalom, fratello Giuseppe e tutto lo staff di Radio Blast. Domanda. L'America userà la Cina contro la Russia? Ho letto questo nella profezia di Luz de Maria. Pregate, figli, pregate. La Cina si solleverà contro la Russia, tra lo stupore del mondo. Grazie per quello che fate per noi, soprattutto per la corretta informazione che ci date. Lode e gloria al Signore Gesù, Re dell'universo. Grazie Gaetano. Guarda, quando si parla di politica, informazione corretta non è facile, perché questi politicanti non è che seguono la Bibbia. E posso anche dare opinioni sbagliate, dovete perdonarmi, non è che sono il Signore infallibile, assolutamente no. E voglio dire che, a volte sai, ci sono delle imperfezioni, ma riguardo alla politica è così. Solamente le scritture che dobbiamo prenderle dogmaticamente. Comunque grazie, fratelli, per la pazienza. Allora, la tua domanda è... L'America userà la Cina contro la Russia? Allora, sì, io ho visto, ho pregato un po' su questa tua domanda. Io posso dire questo, che la Cina attualmente è il solo serio appoggio che consente alla Russia di sfidare sia l'America che la Nato. Quindi la Cina è l'unico pilastro che la Russia ha, non c'ha nessun altro. Nessun altro. Ha perso l'impero sovietico. Ora, la Cina sa che farà bene e nel suo interesse è di appoggiare la Russia. Quindi per capire cosa faranno le nazioni, la prima cosa che dobbiamo guardare non è alla giustizia, alle regole, stretti di mano ai contratti, no. Dobbiamo guardare all'interesse, che interesse hanno. Quindi dove giace l'interesse e tu aspettati che vanno in quella direzione. Che il mondo non è guidato dalle regole, dalla giustizia, è guidato dall'egoismo, dall'interesse, dal potere. E allora, la Cina sa che è nel suo interesse appoggiare la Russia in questo momento difficile. Perché? Perché appoggiando la Russia, questo diventa come una caparra da parte della Russia. Capito? Che la Russia appoggerà lei quando arriverà il tempo di invadere Taiwan. Cioè è un business. È un business. Non importa chi ha ragione e chi ha torto. Questo è un business. No, no, assolutamente. In politica, in guerra, come si dice, in amore e in guerra, tutto è concesso. Non so se dice il proverbio. Proverbio, però, davanti a dire, non è così. Cioè, non è questione se, ma la questione è quando la Cina invaderà Taiwan. Infatti stamattina stavo dando un occhiato alle notizie in inglese e c'è una portaerei americana che sta attraversando lo stretto di Taiwan. E... Cosa è americana la portaerei? Americano? Mi pare che era cinese. Insomma, c'era una portaerei, credo cinese, attraversava lo stretto di Taiwan e l'America si è lamentata. Che ci fa il tuo portaerei lì? Non sai che sono io la regina dei mari. E la Cina gli ha risposto, no, guarda, gli aerei non erano in posizione di decollo, di attacco. E... Dice, secondo le regole internazionali di libre circolazione, noi abbiamo il diritto di circolare nello stretto di Taiwan con una portaerei in carica di aerei. Hai capito? Quindi... Sì, sì, è vero, è una portaerei cinese era questa qua. E allora la Cina gli rode, capisci, che Taiwan ancora non è riuscito. Quindi la Cina vuole fare a Taiwan quello che la Russia sta facendo all'Ucraina. Solo che io credo che Putin, come ho sempre detto, Putin uscirà dell'Ucraina dopo che si è preso quello che gli interessa. Il Donbass è abbondante anche. Con gli interessi, perché glielo stanno facendo sudare a Putin questa, no? E allora lui se li prenderà con molti interessi. Però alla fine, io credo, va bene, che alla fine Putin uscirà dall'Ucraina. Invece la Cina, quando mette i piedi di Taiwan col fischio, che la lascia. Va bene, Taiwan è ricchissima per tanti motivi che vuole tenere, ma più che altro per motivi politici. Ma questa è una profezia. Da Luz de Maria, la Cina si solleverà contro la Russia. Guarda, sono contento che stamattina vi abbiamo parlato delle madonne, guarda. Perché queste profezie della Luz de Maria o le tenebre di Maria, che profezie sono? Sono basate nella Bibbia queste profezie. Permetti che ti rispondo io, no. Capite? Io non credo a nessuna profezie che non è basata sulla Bibbia. La profezie non è che ripete lo che dice la Bibbia, però è basata almeno. Quindi, guardando all'egoismo, all'interesse, sappiamo la direzione futura che le nazioni andranno. Ognuno andrà verso il suo interesse. La Russia ha la sola speranza che la Cina abbia per poter sfidare l'America a prendersi Taiwan, no? Quindi, il tentativo cinese a far questo, secondo me, è più che certo. Cercheranno in tutti i modi, anche se dovessero perdere la guerra. Ma i cinesi sono molto furbi, scaltri, furbissimi i cinesi sono. E quindi, io ho l'impressione che quando attaccheranno Taiwan, sapranno che... Cioè, faranno un blitzkrieg. Prima che l'America riesce a mandare le sue portaerei di qua e di là, loro hanno già preso Taiwan. Perdite immense, perché l'America ha armato Taiwan fino ai denti. Però la Cina può permettersi di permettersi di qualunque perdita, perché Taiwan è piccolino. Taiwan no, Taiwan è piccolino. Quindi, la Cina può perdere quello che vuoi, però alla fine loro sono sempre di più. Quindi, questo discorso che faccio è in base all'attuale realpolitik. Cioè, non ha senso che l'America riesca ad usare la Cina in questo modo, cioè per attaccare la Russia? Non credo, non ha senso per me. Perché la Cina può dare questa impressione. La Cina, sai com'è, no? Fa sempre sorrisi. Adesso ha parlato con l'America, ha cercato di fare pubblica relazione, ha cercato di fare sorrisini. Ma sotto banco la Cina, Russia non Russia, Taiwan no, insomma, la Cina lavora sempre contro l'America. Perché è un po' come Roma e Cartagine. La guerra Roma-Cartagine è stata per chi doveva avere il controllo dei mari, del Mediterraneo, per il commercio. Soldi, insomma, Babilonia, soldi. E così, se non altro, per motivi di soldi, l'America e la Cina non andranno mai d'accordo. Perché, sai come fanno le famiglie mafiosi? Sono lì, ognuno si vuole dividere un pizzo dalla pizza. E tutti vogliono il pizzo più grande. E' giusto che io prendo il pizzo più grosso e te più piccolo perché io, eccetera, eccetera. E dice, no, non è giusto. E metto la pistola sul tavolo. Non è giusto perché, vedi, anche se tu c'hai questi diritti, io però ho i miei cosi qua. Siamo armati fino al collo. Insomma, d'accordo che a volte in politica le cose non hanno logica. La politica non ha logica. Tranne che la logica dell'egoismo, del potere, dell'interesse. E per questo che resta dell'opinione che la Cina non si farà usare dall'America la leggera. L'America non è riuscita a farlo finora, ti pare che comincia adesso. Che i tempi stanno quasi maturando per prendersi Taiwan. Quindi i giganti sono tre, Cina, Russia e America. Quindi se, alla fine, se due giganti si fanno la guerra tra di loro e il terzo gode. Va bene. Quindi se la Cina dovesse fare la guerra con la Russia, come questa domanda dice, che l'America userà la Cina per fare la guerra contro la Russia. Questi due giganti, ripeto, Cina e Russia, se si attaccano tra di loro, il terzo gode. Quindi se Cina e Russia si fanno la guerra, l'America gode, l'America prende tutto. E nella Russia e nella Cina sono così stupidi da fare una cosa simile. Capito? Cioè, quindi il loro interesse è un sistema di autodifesa contro l'America che la Cina e la Russia hanno fatto il patto, hanno fatto un patto militare, proprio poche settimane fa, giusto prima di invadere l'Ucraina. Hanno fatto un patto anche militare, un po' come l'ha nata l'America con l'Europa. Va bene, non credono che... L'America è ipocrita, l'America sta cercando di convincere la Cina, se non a spostarsi verso l'America, che nessuno ci crede, almeno a far finta, almeno a darsi una calmata. E la Cina glielo fa credere. Dice, sì, sì, va bene, l'importante è che io non prendo le sanzioni, che continuo a guadagnare e voglio a perdere. Bene? Sì, nella situazione di oggi, come tu hai spiegato, è chiaro, la Cina ha detto apertamente, stiamo sostenendo la Russia. Però, durante il tempo della fine, le profezie cosa dicono? La Cina sarà da quale parte? Quando verrà l'anticristo? Beh, se vogliamo guardare la Cina nelle profezie, devi andare a Daniele 11. Vai, Daniele 11. Daniele 11, al verso 44. Sì, Daniele 11. Scrivetevelo, fratelli, questi riferimenti. 44. Poi ci meditate, meditateci finché lo capite. E quando lo capite, non tanto quello per la mia spiegazione, ma anche proprio lo capite voi dalla Bibbia, e loro potrete insegnare alle pecorelle, che vi faranno le stesse domande. Vai. Daniele 11, 44. Ma notizie dall'Oriente e dal Nord lo spaventeranno ed egli parterà con gran furore, per distruggere e disperdere molti. Daniele? Daniele 11, 44. Questo è l'anticristo, eh? Questo si spaventerà l'anticristo? Quindi l'anticristo, sì, anche il diavolo si spaventa, eh? Sì, perché il suo regno si sta crollando. E allora parte con gran furore per distruggere e disperdere molti, per rimettere, ricompattare il suo regno. Da qui io vedo le tre nazioni europee distrutte. L'anticristo parte e distrugge tre nazioni a Nord, capito? E che sono, io direi, probabilmente, ok? Probabilmente questo è il momento che le otto corna, cioè l'anticristo, la Russia, Magog e le altre sette, distruggono i tre ribelli. E qui questo potrebbe essere l'Italia, un altro paio. E per disperdere molti, disperdere chi? Quelli che vogliono unirsi. Però dice che le notizie spaventose non sono solo dal Nord, ma anche dall'Oriente. Ora, all'Oriente c'è solo una potenza che fa paura. Non è l'India, tradizionalmente neutrale, non sono nazioni secondarie come l'Indonesia, Pakistan, Bangladesh, chi c'è? L'Australia sono 15 milioni di persone. L'Australia è un po' un appendice, un traino dell'Ingliterra, ma sono una cosa, niente, a paragonata alla Cina. La potenza dell'Australia sono l'Ingliterra e l'America, basta. Quindi l'unica potenza che può dare pensiero all'Anticristo è la Cina. Quindi qui vedo la Cina in Daniele 11. E quelle sono le notizie spaventose dall'Oriente? Secondo me, e qui faccio un'ipotesi, è la guerra atomica tra l'India e la Cina. Quindi questa potrebbe essere proprio la guerra nucleare a Oriente. Cioè l'Anticristo sarà spaventato da una guerra tra la Cina e l'India? Eh sì, perché la Cina fa parte del suo regno, ha bisogno della Cina per combattere contro l'America. Per questo che la Russia adesso è lì, speriamo che la Nato non attacca perché sono perdo. Che la Nato, America e Russia messi insieme con la Cina, che non si sa cosa farà, e la Russia perde, a meno che non andiamo in una guerra atomica, che non sarà. Quindi non credo che questa notizia dell'Oriente, possibilmente la Cina, si tratti di una guerra contro l'Anticristo, contro Magoghe e l'Europa. Ma semmai, semmai contro l'India. Perché già sono anni che l'India e la Cina fanno scaramucce, vogliono farsi la guerra. Perché il territorio indiano fa assolutamente gola all'egemonia della Cina. La Cina vorrebbe con lo sbocco lì. La Cina sa che l'India è uno dei posti più ricchi al mondo. Io sono stato lì qualche anno a evangelizzare, così so che devi vedere un altro mondo. C'hanno è ricchissimo di tutto, di materie prime, di spezie, è ricchissimo, non è sfruttato. Perché l'India non è molto avanzata, la Cina invece sì. Quindi la Cina in 448 se prende l'India esplode. L'India diventerebbe una seconda Cina. Ma l'India è ricchissima di tutto, di tutto. E c'ha foreste, acqua, acque, fiumi, piantagioni. L'India è uno dei posti più ricchi del mondo, l'India. Solo che c'hanno queste religioni, 330 milioni di idoli, che la tengono, diciamo, nell'oscurantismo. Le donne sono sottomesse, le donne sono le serve, il marito è un po' il dio della casa, il padrone, la moglie è silenzio. La moglie non può sedersi davanti al marito, il marito mangia, la moglie sta in piedi a servirlo. e quando ha finito di mangiare lui, lei mangia gli avanzi. E quindi queste religioni, queste religioni mantengono questa nazione. Dimmi, c'è John con la campana lì. Sì, ho una domanda. L'India e la Cina, se si combattono, chi pensa che vincerebbe? Se la Cina e l'India combattono tra di loro, tu chi pensi che vincerà? Beh, sulla carta, la Cina è molto, molto più potente. C'è un esercito convenzionale che è forse uno dei più organizzati del mondo. Convenzionalmente l'esercito cinese è più potente del mondo, perché adesso è molto, molto organizzato, molto armato. Sì, come forse aeree ancora sotto l'America. Va bene, qui andiamo molto sulla tecnologia. E come bombi atomiche, sappiamo che la Cina ha 400, 500 bombi atomiche. e l'America ce n'ha 5,500 e la Russia ce n'ha 6,200. L'India c'ha anche le bombe atomiche, però, diciamo, non è così organizzata. Infatti, infatti, durante un addestramento missilistico in Cina settimana scorsa, sì, missilistico, e per sbaglio hanno lanciato un missile contro Pakistan, che è esploso in Pakistan. E Pakistan dice, ma cosa accidenti state combinando voi con i vostri elefanti e i bufali lì, e le vostre mucche? e sono lì che si guardano con occhi storti. E l'India dice scusate, è stato un piccolo errore. Quindi, cioè, capisci? Oh my gosh! Capito? Quindi non è che l'India sia molto organizzata. Capito? Ma infatti, infatti, le lanceranno e la Cina sicuramente ci sarà questa risposta nucleare. Vabbè, quindi probabilmente vincerà la Cina. Però, essendo l'India una potenza nucleare, lei potrà contrattaccare e va bene, la retaliation. Esatto. E a quel punto magari subentrerà anche il Pakistan, che è un alleato dalla Cina. perché il Pakistan è alleato con la Cina. Ah, perché sono islamici, il Pakistan è in competizione con l'India. In fact, e l'India avevano stato un paese. Sì, e poi si sono divisi perché loro sono islamici e l'India sono due. Sì, hanno fatto già la guerra. Hanno fatto la guerra e che l'India ha invaso il Pakistan. Dopodiché il Pakistan dice alto, non più, e si è fatto le bombe atomiche. Ed allora l'India si è calmata anche lei. Quindi, ci sono tre potenze nucleari che si confinano, Pakistan, India e Cina. ecco, torno alla profezia appunto qui vediamo a Daniele 11,44. Lo leggo di nuovo? Sì. Ma notizie dall'Oriente e dal Nord lo spaventeranno ed Elie partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Daniele 11,44. Gloria a Dio. Questo alla fine succede, alla fine dei tre anni e mezzo. Va bene, e dopo verso 45 parla che l'Anticristo andrà alla sua fine e nessuno sarà per lui. Andrà alla sua fine e nessuno sarà per lui appunto perché qual è Armageddon. Ma c'è qualche scrittura dove dice più chiaramente che la Cina sarà alleata della Russia, dell'Anticristo durante il tempo della fine? Beh, io credo che la Cina la si vede anche nella profezia della Sesta Coppa in Apocalisse 16 vediamo il Sesto Angelo che versa la Sesta Coppa all'ira di Dio. Questo però avviene dopo il rapimento. Vuoi andare lì? Ok. Apocalisse 16,12. Questa è la Sesta Coppa dell'ira di Dio dopo il rapimento. Allora, la Tribulazione è contrariamente come dicono tante chiese che la Tribulazione è l'ira di Dio e Dio ci salverà dalla sua ira. Non ci è destinato all'ira di Dio. Certamente no. Certamente l'ira di Dio si rovescerà sul mondo dopo che la Chiesa è stata rapita. Ma dopo la Tribulazione che non è l'ira di Dio ma è l'ira del diavolo come dice Apocalisse 12. Il diavolo è venuto sulla Terra con grande ira a perseguitare la Chiesa. Purtroppo certe chiese fratelli protestanti la interpretano in modo sbagliato. Allora, vuoi leggere quella scrittura lì? Sì, Apocalisse 16-12. Ok, qui siamo alla sesta coppa dell'ira di Dio dopo il rapimento. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Apocalisse 16-12. Capisci? Allora, il fiume Eufrate dovrà essere prosciugato perché? Perché devono passare 200 milioni di soldati. Ah. Capito? I ponti su Eufrate non basteranno mai per 200 milioni di soldati con carri armati e tutto. Che vengono dall'Oriente. Vengono dall'Oriente. All'Oriente quindi 200 milioni che devono entrare dove vanno questi 200 milioni? Vanno ad Armageddon. Vanno. Vanno ad invadere Israele perché questa profezia di Apocalisse 16 è intrecciata con un'altra profezia. Andiamo lì. Apocalisse 9 14 qui c'è un'altra profezia che è collegata con il sesto angelo e la sesta coppa si intreccia con l'Apocalisse 9 14 a 16 va bene e leggilo lì che praticamente è lo stesso evento. Apocalisse 9 14 a 16 la voce diceva il sesto angelo che aveva la tromba sciogli i quattro angeli i quattro angeli cioè sono quattro demoni ok questi quattro angeli legati sul fiume su questo fiume che poi il fiume Eufrate sono quattro demoni perché? perché gli angeli di Dio non sono legati sono liberi avanti sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate e furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora quel giorno quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini ora qui non è chiaro se la terza parte degli uomini del mondo guerra atomica o terza parte dei 200 milioni va bene questo comunque questi dettagli li vedremo in cielo perché saremo già rapiti a quel punto 16 il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udì il loro numero Apocalisse 9 14 a 16 va bene e allora io udì il loro numero cioè questo numero sicuro ma Apocalisse 16 16 Apocalisse 16 16 e radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon Armageddon va bene quindi tutto questo qui converge in Armageddon qui siamo alla fine siamo alla fine della tribolazione va bene siamo sull'orlo del rapimento quindi c'è questa grande guerra va bene grandissima benedetti fratelli che sono rifugiati in qualche altro continente che non è Europa è Medio Oriente e che non è Cina che non è Russia per questo è per questo che Dio ci ha detto di spostarci qui in Sud America benedetti fratelli che saranno fuori perché il pianeta vibrerà quando scopriranno tutte queste mappe atomiche il pianeta vibrerà quindi a meno che tu non vuoi morire muoio perché voglio morire d'accordo se questo ti ha mostrato devi morire a me non me l'ha mostrato va bene e allora cerca di trovare un bel rifugio fratello invece di spendere i pochi soldi nel posto sbagliato per esempio dove sei vai nel posto giusto dove Dio ti mostrerà e investi lì i soldi metti lì le vasi che non devi abbandonare dalle robe quindi pregateci sopra quindi la scrittura che hai citato di Apocalisse 16-12 dimostra che la Cina sarà dalla parte della Russia perché dice il re dell'Oriente inviano 200 milioni soldati a invadere Israele cioè è l'armata di Magog questa sì questa è l'armata di Magog che capeggerà la Russia Magog l'Islam la Cina e anche l'Europa perché abbiamo visto nel corso biblico abbiamo studiato come la seconda guerra dell'anticristo Apocalisse 11 dal 21 al 23 al 24 la seconda guerra dell'anticristo lì c'è c'è delle nazioni che voltano Gabbana va bene si uniscono al re del nord Gog l'anticristo questo qui per me è molto chiaro che è quello dell'Europa perché le dieci nazioni che danno potere all'undicesimo corno all'undicesimo re lo vediamo Apocalisse 17 12 al 16 che danno potere all'undicesimo corno che danno potere alla bestia Apocalisse 17 12 in avanti ripeto sono europei quindi è inutile che noi stiamo lì a pensare che l'Europa seguirà l'America sempre infatti già adesso la Nato scricchiola la Turchia che ne ha nato ha detto noi non seguiremo l'Europa con le sanzioni e sono lì che stringono la mano la Russia che Erdogan sa che presto il vento cambia e che all'America tutto fuma niente rosto va bene l'Italia non c'è nessuna intenzione di fare guerra la Germania non vuole fare guerra nessuno vuole fare guerra tranne la prostituta Babilonia l'America nessun altro perché l'America vuole fare la guerra perché sono gli europei che la fanno non lei e l'Ucraina che la fa non lei e la Nato che la fa non lei noi non manderemo neanche un soldato americano in Ucraina grazie allora chi ci va gli europei allora un messaggio è da Paolo che risponde alla domanda di John Paolo is answering your question ecco da dove suona la campana tra la Cina e l'India chi vincerà la guerra Paolo dice io penso che la Cina vincerà sull'India perché la Cina parteciperà ad Armageddon come abbiamo letto in Apocalisse 16 se fosse sconfitta dall'India non potrebbe prendere parte ad Armageddon beh si si ma lo dasso anch'io so he's saying that probably between China and India China will win because we see that later China participates in Armageddon sends 200 million soldiers and if he would be defeated he couldn't send all these people unless it's possible that they both batter up each other so badly that they can't fight anymore and they still have army left because they have a billion soldiers si quei dettagli lui dice ci sono ci hanno miliardi di miliardi di opulazioni di soldati dice potrebbe essere che si autodistruggono a vicenda si può essere comunque facilmente facilmente quando faranno la guerra atomica che sarà verso la fine della tribolazione cioè i 200 milioni di soldati sono già in Europa che non è che ci vanno in due o tre giorni questi già marciano da mesi quindi sono già arrivati sono già arrivati alla frontiera di armageddon quando scoppia la guerra atomica tra di loro e la guerra atomica non so mai come finisce perché dipende da quanti missili atomici riescono a passare la contraerea eccetera sicuramente sulla carta ho detto prima la cina è sempre più avvantaggiata no? e comunque sarà una guerra terribile diverse guerre atomiche ci saranno quelle una poi ci sono altre in Europa poi c'è quella contro Babilonia sono diverse guerre atomiche che arrivano insomma la cina comunque è la sola in grado di supplire 200 milioni di soldati nessuno non c'è un'altra nazione che può dare 200 milioni di soldati dall'Italia attualmente c'è 150 mila soldati l'Ucraina ce n'è 600 mila perché spingono la Russia ce n'è un milione l'America un milione la cina non sono sicuro ma va nei milioni 200 milioni insomma tutto questo per dire che non solo per motivi di dottrina biblica ma anche per motivi di realismo realismo bellico non credo a questa madonna che profetizza che Cina e Russia si combatteranno ma va Cina e Russia non sono il teatro della fine il teatro della fine è Magog contro l'America contro la Russia Magog contro Babilonia e la Cina la Cina è abbastanza secondaria nel tempo della fine anche per motivi di geopolitica però contribuiranno a mandare 200 milioni quindi Cina e Russia non vedo che si combatta magari al massimo qualche lite qualche scaramuccia forse ma le grandi guerre è come lo vedo io quello che ho capito io dalla profezia saranno tutte contro il re del sud contro la Babilonia America che combatterà il re del nord l'anticristo va bene? Sì grazie gloria a Dio sì grazie vado avanti quando abbiamo risposto a Dio Grazie a tutti